Ehi, scusa, ciao No, guarda, non compro niente, scusami Ma come comprare? No, volevo solo dirti che hai... No, guarda che... Senti, cosa sono fidanzata, eh Cosa? Oppure cosa? Ma guarda che io volevo solo dirti che... Ehi, cara, guarda che hai la borsa sul tettuccio della macchina Oh, ma è quello che cercavo di dirgli io Oh, grazie mille, cara Guarda che sono fidanzata, eh Oh, ma è possibile che nel 2023 non posso neanche parlare con una ragazza? Oh, tutto bene Oh, meno male un uomo No, guarda, non so cosa hai pensato ma sono fidanzato E con una ragazza